Eleonora Giorgi in fin di vita. Ecco la comunicazione ufficiale dopo l'operazione. Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. La famosa attrice Eleonora Giorgi continua a tenere i suoi fan con il fiato sospeso. Dopo aver affrontato le chimioterapie per il tumore al pancreas, Eleonora si è trovata di fronte a una nuova battaglia. L'ultima confessione di Eleonora aveva lasciato tutti sbalorditi e fortemente preoccupati per il suo benessere. Oggi sono arrivate notizie devastanti sulla sua lotta contro il tumore. Nonostante la sua determinazione a combattere, i recenti sviluppi hanno aggiunto un'altra sfida al suo percorso già difficile. La rivelazione di una polmonite ha gettato un'ombra su come sta affrontando il suo trattamento. In un sincero video pubblicato su Instagram, ha condiviso i dettagli angoscianti di questo nuovo sviluppo. Mi preparavo per la chemio quando la febbre ha iniziato a salire, ha spiegato Eleonora. È stata una sorpresa scoprire di avere una polmonite, quasi come un effetto collaterale della chemioterapia stessa. La sua voce trema leggermente mentre rivela gli ostacoli aggiuntivi che sta affrontando. Nonostante i momenti difficili, Eleonora si aggrappa alla speranza e alla positività. Ha affrontato un intervento chirurgico per gestire un'ulteriore complicazione, dimostrando la sua resilienza straordinaria. Sono stati giorni faticosi, ammette, ma devo rimanere ottimista. Devo lottare e seguire le indicazioni dei medici. Tuttavia, la sua battaglia è ancora in corso. Eleonora ha rivelato che presto dovrà sottoporsi a una nuova PET per valutare l'andamento del tumore e decidere i prossimi passi. Questo momento critico potrebbe portare a un intervento chirurgico, ma solo il tempo dirà quale sarà il suo destino. Nel video, Eleonora non manca di ringraziare i suoi fan per il sostegno incondizionato che riceve. I vostri messaggi mi danno la forza di continuare, confessa con gratitudine. È evidente che il sostegno della comunità online gioca un ruolo cruciale nel suo viaggio di guarigione. Quindi, mentre Eleonora affronta questa nuova sfida, i suoi fan rimangono in attesa, pieni di domande speranzosi per il suo futuro. Cosa riserverà il destino per questa icona del cinema italiano? Nel frattempo invitiamo anche te a lasciare un commento di incoraggiamento per Eleonora Giorgi.